Non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso, la providenza di Dio si rende... Pronto? Francia, so Gesù. Gesù, ciao, che si dice? Senti una cosa, questa cosa di ieri mattina che la stai a far passare un po' in sordina, ma in realtà sta a far giro del mondo, eh? E che si parla, Gesù? Come di che si parla? Che sei a far furbo? Hai detto cazzo all'Angelus, ma cacci tu. Ma no, ho solo sbagliato la pronuncia. No, 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 Francia, tu hai detto proprio cazzo. Tu hai detto cazzo, forte e chiaro in diretta mondiale, non c'è. Mi sei corretto subito. Non era lì con una cosa buona. No, senti, a me mi fa pure bene che tu vuoi far il papa moderno, il papa giovane, quello che gli stanno simpatici tutti, pure li froci. Però Francia, cazzo non si può dire, ho capito? Non esiste, guarda papà è incazzato nero, eh? Ti rendi conto di quanto mi sono battuto per farti diventare papa e leva al tedesco, eh? Io devo rispondere di tutto quello che fai, capito? Mi dispiace, Gesù.